Operazioni lunghe, quelle di identificazione dei quasi 900 migranti, lunghe e difficili visto che gli operatori e volontari non si aspettavano di trovare a bordo ben 138 minori non accompagnati, affidati adesso all'assessorato comunale per la cittadinanza sociale, cui funzionari sono stati presenti in banchina con i colleghi della protezione civile, tra i minori anche tre dodicenni e un quindicenne. Per il sindaco Orlando, di fronte alla solidarietà, alla professionalità e alla cultura dell'accoglienza che si pratica a Palermo, non possiamo però tacere la difficoltà a cui andiamo incontro in vista di nuovi e più massicci arrivi, frutto delle diverse politiche di sempre maggiore chiusura operate a livello internazionale che rischiano di scaricare sulla Sicilia e sul meridione d'Italia, così come sulla Grecia, la gestione del fenomeno migratorio che certamente non si fermerà davanti ad alcun muro. Il riferimento del primo cittadino era alla barriera del Brennero, voluta in questi giorni dall'Austria. Intanto i racconti dei migranti soccorsi offrono nuove pagine di orrore. Due persone sono annegate durante una traversata nel canale di Sicilia, sono cadute in mare insieme ad altri due uomini che sono stati poi soccorsi per l'esplosione del motore fuori bordo del gommone sul quale viaggiavano. Lo hanno raccontato i sopravvissuti che erano tra i 245 migranti sbarcati ieri a Pozzallo da un pattugliatore maltese. Tra loro anche 55 minori non accompagnati. Le indagini hanno permesso di identificare lo scafista di quel gommone, un gambiano di 16 anni che è stato fermato ma non è indagato per la morte dei migranti. Polizia, carabinieri e guardia di finanza hanno anche fermato il presunto scafista di un altro gommone, un 31enne del Selegal. Entrambi sono indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sino ad ora nell'hot spot di Pozzallo hanno fatto ingresso 4.245 migranti in occasione di 12 sbarchi e sono stati complessivamente fermati 46 scafisti, 15 dei quali minorenni, anche questo è un dato sul quale riflettere. Infine è approdata questa mattina a Catania la nave Dattilo della Guardia Costiera con a bordo 121 migranti.